Chiamate sospette? SMS pericolosi? Offerte ingannevoli? Ti presentiamo i Navigati, una famiglia come tante ma esperta di cyber security. E mi sa fare un esempio? Fishing, smishing, fishing. Ma come parli? Segui i loro consigli per proteggerti dalle minacce informatiche. Sai di che parliamo? Il sim swap, lo capisci? Oui. Ho trovato il modo di fare una valanga di soldi. Sembra un affare. È falsa. Ah, vabbè, ma questo lo sapevamo. Guarda tutti gli episodi della serie su YouTube e su iNavigati.it. Per navigare in sicurezza è importante informarsi.